Musica Musica Come si chiama It Fox Lui E quindi Vi presento questa partita Molto bella Cioè La sto commentando in live Quindi non so come andrà a finire Comunque ne ho pochissimi coin Monete Money Come volete chiamarle Perché Come dire Ci gioco solo da stamattina Quindi Allora Vi consiglio subito di Mettervi La Il Fov A Quake Pro Perché vi servirà Intanto Facciamo cadere giù di sotto quello lì Ok Fuori uno Perfetto E Perché Perché come sapete tutti Anche per le frecce Tipo E Vi aumenterà la precisione Oh mio dio Quella la mi sfarava C'è qualcuno Mi sfarava Eccolo Gli fa cadere quello Ah ma lì c'è Matteo No Non è lui Ma la skin simile Uova Uova Addio Ciao amico Sei stato molto simpatico Però Dovei morire prima o poi Ho paura che quello lì abbia delle uova Delle robe da lanciarmi Comunque Non la faccio Vado per così ancora Mi creo il sentiero E poi mi butto Qua possiamo vedere Un uova Perfetto E Un cappellino Concelo Ora sono full armor 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 Sì Altre uova Quelli dio Ho paura che siamo in team Ma Ci vado lo stesso Ecciso Quello lì Cerca di farsi Addio Anche a te Amigos E siamo già a un paio di kill Credo Non le sto neanche più contando Tanto vediamo Sti babbetti qua Che si fanno Le varie basi Ho lag Assurdo Va bene Quelli lì sono in team Probabilmente Mi hanno anche visto Però io ci vado lo stesso Ok Uno è appena stato ucciso Ah Vuoi combattere? Porca Troia Mangiamoci le miele Tanto ne abbiamo tante Ora Non ci dovrebbe più fare niente Perfetto Cosa vuoi fare Babbo del cavolo E ho vinto Ho vinto Ho vinto Un po' di coin Comunque ho ucciso l'ultimo Vincendo Direi che questa è una bella partita È durata poco Quindi Chi se ne frega Vi saluto Lasciate un bel like Bella